non porto a fare nessuno quando veni chiamati? a me calda io voglio mandare un vaso a tua mamma una signora una mamma spettacolare tuoi saperli da parte mia e tu lo sai io ogni volta per le feste ci vado a trovare la gente la tua mamma per Natale perché per me è come fosse mia mamma io la stimolo io voglio me rendere bene con tutto il mio corpo anche a tua sorella che si ha fatto il caffè un bacio e poi abbiamo anche a Giorgi e poi abbiamo a tua niposa un bacio da parte mia e lei purtroppo poi si hanno aspirato a tempo non è colpa mia è giusto ok avete portato un piccolo video la mia amica è il bello che si è a tutti i quali regalisti di Cugna sempre da un bello di grado per me ti spiegare facciamo questo video più vai grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 A tutti. Grazie 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 a tutti.